Si cerca il bonefish, cerchiamo l'acqua passa, cerchiamo i loro branchi, quando li troviamo lanciamo questa piccola mosca, il vento ci aiuta nel lancio, non è una pesca scontata, è una pesca estremamente mozzogna. Questo è un po' più torbido rispetto alla chiarezza, qui ci sono i bonefish che probabilmente stanno confolando sul suo, l'altro è abbastanza basso, sarà meno di due metri, questo è appunto questo dove non c'è, adesso ancoriamo e cominciamo a pescare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.